Però il precariato, Presidente, che tocca ai giovani non può non esistere, deve essere certamente meno ampia la sfera del precariato e in ogni caso deve avere davanti a sé una speranza, cioè che il precariato gradualmente si trasformi in attività che dia la garanzia a ciascuno di poter guardare poi alla propria vita nel futuro. Quindi se posso permettermi il messaggio molto importante del Presidente, il precariato paradossalmente può essere anche, se visto in positivo, un'opportunità, un darsi una mossa. Una opportunità, ma di fronte a quel precariato che può sperimentare i giovani nella prima fase della loro attività, occorre una organizzazione sia dal punto di vista della sfera pubblica, sia dal punto di vista della vita delle attività private, bisogna che ci sia non solo la speranza, ma ci siano aperte le strade perché il precariato si trasformi in attività definitiva.